Questa è un'edizione speciale del giornale che ogni anno in occasione della Sueju esce, quindi un giornale un po' più grande, con più pagine e più contenuti, che però quest'anno ha una doppia copertina, quindi se da una parte trattiamo la Sueju con tutti gli articoli che riguardano appunto la gara, dall'altra c'è l'attività dei nostri ragazzi che è sempre molto intensa, ci sono le attività extra che vanno un po' al di là dello sport che noi facciamo, come le escursioni in montagna, il campeggio estivo e comunque tutti i risultati che i nostri ragazzi ottengono durante l'anno. Ovviamente la gente ci conosce magari di più per la Sueju, che è una manifestazione che coinvolge moltissime persone e che richiama persone anche da fuori regione, però è intensa anche l'attività che facciamo nel campo dell'atletica. Per quanto riguarda però anche l'organizzazione di tutta la Sueju, tutti partecipano, infatti il gruppo sportivo Virtus può essere identificato come una grande famiglia. Sì, una grande famiglia è come dicevi una grande macchina organizzativa, perché per realizzare una gara così impegnativa, che coinvolge così tante persone sia sul percorso che nella preparazione dei pacchi gara, l'allestimento, la presentazione stessa che ci sarà stasera, che comunque ci impegna moltissimo, è importante essere molto affiatati, dividere i compiti e quindi sfruttare le capacità di ognuno. Ognuno mette del suo, con le sue risorse, le sue peculiarità e solo grazie a un grande affiatamento, un grande senso critico, perché a volte bisogna mettersi in discussione, riusciamo a raggiungere questo risultato così importante che è la Sueju. Che si correrà l'11 novembre e c'è però prevista anche una variazione nel percorso. Sì, la gara ci sarà domenica 11 novembre, il ritrovo alle 9 e mezzo, la partenza alle 10 dal monumento ai caduti. Lungo il percorso due grandi novità. Innanzitutto attraverseremo il campo Coni, cosa che non è mai avvenuta. Lo faremo per celebrare insieme a tutta la città l'avvenuta intitolazione del campo a Nicola Palladino. Nicola è stato uno dei fondatori, l'ideatore della Sueju, uno tra i fondatori della Virtus ed è stato allenatore dei ragazzi per moltissimi anni. Non c'era cosa migliore per commemorare la sua scomparsa pochi anni fa che intitolare il campo a lui. Quindi finalmente il campo avrà una memoria, una memoria storica e la Virtus è davvero orgogliosa che sia stato intestato a lui.